Buonasera a tutti dal Centro dei Cartomanti Europei e un bacio da Olimpia. Questo breve messaggio serve semplicemente per dirvi che siamo sempre qui per voi ad ascoltarvi e ad esaurire tutte le vostre domande, anche nei giorni di festa. Siamo qui sia per la vigilia di Natale, sia per il giorno di Natale, lo stesso vale per l'inizio dell'anno nuovo. Approfittate di questa occasione per farci gli auguri e permetteteci di farvi gli auguri perché sapete che per noi è sempre un piacere parlarvi. Vi ringrazio per questo anno che ho trascorso proprio in vostra compagnia, vi ringrazio sempre per la fiducia che mi avete dato e colgo ancora l'occasione per augurarvi un sereno Natale e un anno nuovo pieno pieno d'amore. Ciao!